Musica Prima molitura in un museo atipico, il frantoio comunale di Ficarra, che torna a funzionare dopo decenni di disuso e recuperato a Palazzo Piccolo, detto di Macalda Scaletta. Un sogno che si realizza, detto Mauro Cappotto, artefice del progetto. Nella giornata di ieri al frantoio presenti amministratori vecchi e nuovi, giovani agronomi, rappresentanti di diverse posizioni politiche. Con l'olio che diventa tretto d'unione, simbolo del territorio. Il frantoio comunale da oggi sarà il centro nevralgico della produzione locale per il rilancio della minuta, la sua valorizzazione e promozione. Sono circa nove le etichette di olio. C'è anche una top, insomma, facciamo parte di Slow Food con quattro aziende. Quindi Ficarra ha già un'importante produzione. Chiaramente stiamo cercando anche di capire, attraverso i privati, come si può allargare anche in altri settori. Infatti è nata da non molto tempo un'azienda che utilizza l'olio di minuta per la Cosmesi, per esempio. E quindi è già una cosa molto importante. Poi stiamo lavorando anche su altri fronti, come la valorizzazione del legno d'olivo, la valorizzazione degli uliveti monumentali. Attraverso le associazioni già da anni si promuovono questi tour, i percorsi extraurbani, per visionare gli uliveti monumentali che sono straordinari. È veramente una grande ricchezza contemporanea. Quest'olio che esce oggi, dove andrà? Quello di oggi, anche simbolicamente, ci piace che vada alla menza scolastica, ai nostri bambini. E quindi sono i primi litri di olio che possono andare a contribuire. Perché i progetti per il futuro sono tanti. Da oggi si apre veramente un mondo. Si apre il mondo del turismo esperienziale sulle piante d'olivo, con gli uliveti comunali, quindi da poter assegnare. Si apre il mondo dell'uliveto sociale, quindi di poter assegnare delle piante a persone che decidono con le famiglie di raccoglierle, venire al museo, molire, portare via l'olio, quindi è anche una funzione sociale. Rappresenta un traguardo che abbiamo raggiunto. È un traguardo da attribuire alla passata amministrazione, ma anche a questa amministrazione, una sorta di continuità. Ma è anche un traguardo per il Paese. Perché noi oggi, potendo soffrire di questa struttura, soffriamo di un museo interattivo, di un museo che non è statico, ma è dinamico. E soprattutto andiamo ad esaltare una delle caratteristiche fondamentali del nostro territorio, che è l'olio d'oliva. C'è Fricarra e si caratterizza per l'olio d'oliva e per la pietra arenaria. Quindi quale tributo migliore? E quindi quale combinazione importante che c'è tra, quale sinonimo importante che c'è tra il turismo e l'agricoltura? Noi oggi ne abbiamo una dimostrazione pratica. Quindi questa prima ammollitura è sicuramente un passo avanti e uno sprono per l'agricoltura di Fricarra. C'è da dire che ormai è rilegata non più a un ruolo produttivo e una fonte di reddito, ma è più che altro un hobby e una produzione a livello familiare. Spero che questa iniziativa sia frutto di incentivare i giovani come me, come Michele, come altri ragazzi che ci sono in paese a riprendere la cultura dell'olivo e a cercare di innovare per portare il reddito sui nostri territori.